Sabato 8 ottobre a partire dalle ore 10 lungo Corso Umberto si è tenuto il Mototerapia Day, un evento che ha visto coinvolti i ragazzi di Raggi di Isole in una giornata dove insieme ai professionisti di Motor Life hanno trascorso momenti di gioia e spensieratezza in sella alla moto. L'evento è stato promosso dalla cooperativa Etnos in collaborazione con il comune di Caltanissetta, Motor Life, Impresa Sociale con i Bambini e Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi. È un'emozione incredibile guardare questi sorrisi, questi sguardi, dare la possibilità di movimento a persone in carrozzina e vivere l'ebbrezza della velocità, è qualcosa che veramente si riflette negli occhi di ciascuno dei nostri ragazzi, è un'esperienza che non credevo potesse emozionarmi così tanto e io mi auguro che sia soltanto l'inizio di un'avventura che nel prossimo tempo insomma nei prossimi giorni possa portare anche delle importanti novità. Oggi finalmente risaliamo in moto qui a Caltanissetta, cercheremo di portare la mototerapia a più persone possibili, persone che hanno una disabilità, persone comuni che semplicemente vogliono provare l'ebbrezza di andare in moto.